ciao a tutti ecco voi il semifreddo a caffè cioccolato un dolce davvero gustoso ideale da portare in tavola a termine di una cena speciale ho inserito all'interno di una ciotola la ricotta ho aggiunto lo zucchero a velo inizio a mescolare con le fruste ok ora a questo punto vado ad inserire il latte condensato e proseguo sempre con le fruste ora aggiungo la tazzina di caffè mi raccomando che sia freddo perché sennò poi smonterebbe tutto l'impasto ora vado ad aggiungere le gocce di cioccolato ok e proseguo con una spatola ora sono andata a rivestire uno stampo da plum cake con della pellicola e vado ad inserire l'impasto e lo vado a lasciare riposare per almeno tre ore all'interno del freezer ok lo posiziono su un vassoio da portata e lo vado a decorare con cioccolato fondente che sono andata a scioglierlo all'interno del microonde o a bagnomaria e poi l'ho inserito all'interno di una sac a poche e lo decoro ok pronto da gustare ragazzi è favoloso credetemi spero vi sia piaciuta alla prossima